Ci siamo abbondantemente salutati e riconosciuti durante il tempo che ha preceduto quest'inizio, perciò vado subito al tema che oggi potremo trattare insieme. Come notate, non abbiamo il desiderio di fare una introduzione solenne, ma semplicemente di darvi un resoconto. Ci ritroviamo qui, in questo auditorium, dopo due anni, dopo l'inaugurazione avvenuta il 18 marzo 2015. Da allora, in due anni, il mondo intorno a noi, molto vicino a noi, e anche lontano da noi a livello nazionale, internazionale, il mondo è cambiato, è cambiato tanto. Le spinte al cambiamento, le speranze, le paure, l'entusiasmo, l'incertezza. La Chiesa, che è nel mondo, anche se non è del mondo, non è rimasta estranea a queste vicende. Sì, è vero, per ogni epoca si dice che Ecclesia sempre reformanda. Però la spinta riformatrice in questi due anni ha subito una forte accelerazione. Particolarmente grazie al Santo Padre Francesco, lo spirito del rinnovamento evangelico ha permeato ogni ambito della comunità ecclesiale. Non ultimo, questo, dell'ordinamento giuridico canonico, con particolare riguardo al processo per la dichiarazione di nulità del matrimonio. Già nella inaugurazione del 18 marzo 2015 avevamo accennato all'iniziale processo di riforma perché in data 27 agosto 2014 il Papa aveva già deciso l'istituzione di una commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale. Era preseduta, da Sua Eccellenza Monsignor Pio Vito Pinto, dal decano della Rota Romana e composta da dieci altri eminenti membri. I lavori della commissione iniziarono subito con lo scopo di preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale cercando di semplificare la procedura rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio. Pochi mesi dopo, dal 5 al 19 ottobre, si è tenuta la terza assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. A questa assemblea ha partecipato il nostro cardinale Edoardo Menichelli e quella assemblea intendeva fare il punto della situazione e raccogliere testimonianze e proposte dei Vescovi per annunciare e vivere in modo credibile il Vangelo della famiglia. In particolare, un gran numero di padri sinodali hanno sottolineato, cito, la necessità di rendere più accessibili ed agili possibilmente del tutto gratuite le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Uscirono allora da quell'assemblea alcune proposte La prima il superamento della necessità della doppia sentenza conforme La seconda la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del Vescovo diocesano La terza un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria Alcuni padri, tuttavia, in quel contesto si dissero contrari a queste proposte perché sembravano non garantire un giudizio affidabile Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo Altre proposte sono state fatte attraverso alcune considerazioni Ad esempio la necessità di dare rilevanza al ruolo della fede dei fidanzati in ordine alla validità del sacramento del matrimonio tenendo per fermo che tra i battizzati tutti i matrimoni validi sono sacramento Inoltre circa le cause matrimoniali cito lo snellimento lo snellimento della procedura richiesto da molti oltre alla preparazione di sufficienti operatori chierici e laici con dedizione prioritaria esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio questa funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate la relazione del sinodo numero 49 Pochi mesi dopo la nostra inaugurazione la commissione speciale consegna al Santo Padre la proposta di riforma che dopo un'ulteriore revisione viene alla luce in data 15 agosto 2015 il Sommo Pontepice firma le due lettere motu proprio date mitis iudex dominus iesus per il diritto canonico mitis e misericors iesus per il codice delle chiese orientali con questi due motu proprio viene riformato il processo canonico per la dichiarazione della nullità del matrimonio Tali lettere vengono promulgate l'8 settembre ed entrano in vigore l'8 dicembre non a caso due feste mariane le due lettere si situano così idealmente fra i due sinode dei vescovi sulla famiglia quello straordinario dell'ottobre del 14 e quello ordinario dell'ottobre del 15 cioè la 14esima assemblea generale ordinare dei vescovi che si è tenuta dal 4 al 25 ottobre sul tema la vocazione e la missione della famiglia nella chiesa e nel mondo contemporaneo il mio invito a questo incontro di oggi è volto a illustrare le linee fondamentali della riforma invocata dai padri sinodali già dal sinodo del 14 e confluita in gran parte in quella attuata dal Santo Padre Francesco questo intento non si tradurrà in una esposizione sistematica del contenuto della riforma ma in una comunicazione su come le direttive pontifice hanno trovato applicazione presso il nostro tribunale ecclesiastico regionale precisamente come recita il titolo del nostro incontro un resoconto sull'applicazione della riforma pontificia del processo per la dichiarazione di annulità del matrimonio nei primi 15 mesi dalla sua entrata in vigore ma prima di passare la parola a Don Paolo Scoponi nostro vicario giudiziale vorrei sottolineare il forte desiderio del Papa e dei miei confratelli vescovi di prevenire i matrimoni nulli anzi promuovere una celebrazione di matrimoni non solo valida e lecita ma anche fruttuosa per il bene la felicità di una nuova famiglia della Chiesa e dell'intera società già i padri sinodali nei due sinodi sulla famiglia espressero tale auspicio che è stato ripreso dal Santo Padre nell'esortazione apostolica post-sinodale a Moris Letizia sull'amore nella famiglia del 19 marzo 2016 il Papa scrive così i padri sinodali hanno affermato in diversi modi che bisogna aiutare i giovani a scoprire il valore e la ricchezza del matrimonio devono poter cogliere i giovani l'attrattiva di un'unione piena che eleva e perfeziona la dimensione sociale dell'esistenza conferisce alla sessualità il suo senso più grande e al tempo stesso promuove il bene dei figli e offre loro il miglior contesto per la loro maturazione ed educazione infine vorrei sottolineare come il Papa ha ripreso anche recentemente queste riflessioni nel discorso tenuto alla rota romana il 21 gennaio scorso e ha proposto due vie da percorrere la prima è indicata nella formazione dei giovani mediante un adeguato cammino di preparazione volto a riscoprire il matrimonio e la famiglia secondo il disegno di Dio e a questo proposito ripetutamente anche dopo ha proposto un catecomenato un cammino verso il matrimonio nella forma del catecomenato la seconda via da percorrere per il Santo Padre è quella di aiutare i novelli sposi a proseguire il cammino nella fede e nella Chiesa anche dopo la celebrazione del matrimonio si tratta di ingoraggiarli a considerare i vari aspetti della loro vita quotidiana di coppia che è segno e strumento dell'amore di Dio incarnato nella storia degli uomini ho citato dalla Catechesi del Papa questi due rimedi la formazione dei giovani e l'accompagnamento dei novelli di sposi conclude il Papa sono finalizzati a favorire un idoneo contesto di fede nel quale celebrare e vivere il matrimonio ciò richiederà il generoso apporto di cristiani adulti uomini e donne che si affianchino al sacerdote nella pastorale familiare per costruire il capolavoro della società attraverso quella chiave che il Papa continuamente richiama di un attento discernimento fra l'altro apro una parentesi brevissima io ho constato da 12 anni questo capolavoro che spesso si realizza nelle coppie che hanno ottenuto la dichiarazione di nullità e hanno un secondo matrimonio spesso quella famiglia il più delle volte quella famiglia va bene il che vuol dire che si arriva al matrimonio impreparati infine mi consentitemi un grazie di cuore a tutti gli operatori del nostro tribunale ho seguito in questo periodo un po' anche le vostre sofferenze non potevo fare molto per voi ho pregato per voi a cominciare ho pregato anche per lui dal nostro vicario giudiziale che ci accingiamo ad ascoltare grazie 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 sono lieto di salutare l'eminentissimo signor cardinale Edoardo Menichelli presidente della conferenza episcopale marchigiana e rappresentante legale del tribunale ecclesiastico regionale piceno e così sono molto lieto di salutare l'eccellentissimo moderatore del tribunale ecclesiastico regionale piceno Monsignor Luigi Conti gli altri eccellentissimi arcivescovi e vescovi della conferenza episcopale marchigiana che sono qui presenti altri hanno avvisato che non potevano venire per impegni sopravvenuti o già presi saluto con grande gioia i vicari giudiziali del tribunale ecclesiastico regionali Monsignor Roberto Malpelo che è il vicario giudiziale del tribunale etrusco d'appello nostro tribunale d'appello e padre Cristoforo Pavlich che è il vicario giudiziale del tribunale interdiocesano Umbro con il quale possiamo dire c'è un rapporto di amicizia oltre che di proficua collaborazione professionale ecco Perugia e Fermo sono possibili del tribunale i fratelli perché hanno l'unico appello diciamo come un appello con Firenze saluto anche tutti gli altri vicari giudiziali di cesani delle Marche saluto le altre autorità ecclesiastiche gli eccellentissimi presidenti del tribunale regionale e provinciale delle Marche le altre autorità civili e militari qui presenti e ovviamente tutti i ministri i periti gli avvocati e tutti gli altri collaboratori a varo titolo del tribunale Piceno che ringrazio per la loro infaticabile paziente e coattività per il bene di tante famiglie ferite saluto i giornalisti tutte le signore e i signori oggi intervenuti che a vario titolo vogliono onorarci della loro presenza ecco a voi tutti porgo il mio saluto più grato per la vostra partecipazione a questa giornata di resoconto da parte del tribunale Piceno sulla riforma pontificia del processo per la dichiarazione di unità del matrimonio ecco sono particolarmente riconoscente a Monsignor Conti archivio metropolitati fermo e moderatore del tribunale per il suo saluto introduttivo che ha collocato l'incontro odierno nel contesto dell'ultimo biennio periodo che ci separa dall'ultima volta in cui ci siamo visti nel 2015 arco temporale carico come ha detto benissimo di drammatiche sfide ma anche gravido di speranze per la società e per la chiesa con particolare riferimento alla famiglia oggetto di specifica attenzione già dal sito uno straordinario dei vescovi del 2014 sulla scia del quale si collega idealmente anche la riforma pontificia che ha stimolato ancor più me e tutti gli operatori del tribunale piceno a mostrare a tante famiglie ferite la materna vicinanza e l'accoglienza della chiesa nell'esercizio della diagonia della giustizia ecco il tema dell'incontro odierno a me è stato affidato ora questo compito già indicato da S.C.C. Conti vedere la riforma da un punto di vista di un'istituzione giudiziaria qual è il nostro tribunale piceno che presta il suo qualificato servizio ecclesiale ininterrottamente da ben 78 anni quindi attraverso principalmente la comunicazione dei risultati della sua prima applicazione il periodo di riferimento scelto riguarda i primi 15 mesi dall'entrata in vigore della riforma 8 dicembre 2015 come vedete 8 marzo 2017 essa dunque copre un arco temporale insolito diverso da quello sempre considerato in incontri ecco tipo questi annuali cioè l'attività del tribunale in 12 mesi qualora risulti necessario e opportuno comunque ecco farò riferimento anche a questo periodo temporale particolarmente a fini comparativi con il passato ecco vorrei innanzitutto però considerare ecco le linee fondamentali della riforma del Papa ecco soprattutto tenendo conto dell'editorio vario qui presente ci sono anche persone non addette ai lavori ma che comunque sono interessate e vogliono cogliere l'occasione per conoscere anche questa riforma del Santo Padre insieme a tante altre che ha fatto che magari sono più conosciute più divulgate ci poniamo allora una prima domanda quali sono le motivazioni della riforma invocata dai padri sinodali attuata da Papa Francesco ecco Monsignor Conti proprio ci ha detto ecco che l'8 dicembre 2015 è entrato in vigore la riforma attraverso due lettere per il codice di diritto canonico quello della Chiesa Latina e per quello delle Chiese Orientali tali lettere abbiamo sentito nascono tra i due signori dei Vescovi sulla famiglia Papa Francesco spiega nel proemio alla lettera apostolica Mitis Dominus Mitis Iudex Dominus Jesus che ora proverò ecco a farvi vedere in modo che possiamo seguire ecco dalle sue parole ho stabilito di mettere mano alla riforma dei processi dell'unità del matrimonio e a questo fine ho costituito un gruppo di persone imminenti per dottrina giuridica prudenza pastorale ed esperienza forense che sotto la guida dell'eccellentissimo decano della rota romana abbozzassero un progetto di riforma fermo restando comunque il principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale lavorando alacremente questo cetus ha prestato uno schema di riforma che sottoposto a meditata meditata considerazione con l'usirio di altri esperti è ora trasfuso in questo motu proprio ora nel compito della riforma il santo padre ha voluto comunque inserirsi nella tradizione seguire le orme dei suoi predecessori ecco i quali hanno voluto che le cause di unità del matrimonio vengano trattate per via giudiziale non amministrativa se ricorderete Monsignor Conti aveva indicato una delle proposte la via amministrativa il papa invece ha scelto di proseguire per la via giudiziale non perché lo imponga la natura della cosa ma piuttosto lo esiga la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo e ciò è esattamente assicurato dalle garanzie dell'ordine giudiziario sottolineo quindi via giudiziale necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo garanzie dell'ordine giudiziario la riforma dunque non intende cambiare la scelta tradizionale della via giudiziale per le cause in unità perché questo? per la necessità di ricercare tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo grazie alle garanzie offerte dall'ordine giudiziario spiegava spiegava a questo proposito veramente il suo più diretto predecessore il Papa emerito benedetto XIV lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale dopo che è stata offerta le parti cioè i conugi la parte attrice chi agisce in giudizio la parte convenuta chi è chiamata in giudizio ecco dopo che è stata offerta le parti pari opportunità di addura argomentazione e prove entro un adeguato spazio di discussione questo scambio di pareri è normalmente necessario affinché il giudice possa conoscere la verità e di conseguenza decidere la causa secondo giustizia questa è la citazione di Papa emerito benedetto XVI quindi vedete come lo scopo del processo in unità è la ricerca della verità sul vincolo sacro e questa ricerca della verità dice il Papa può essere svolta nel modo migliore attraverso la via giudiziare nel quale c'è proprio ecco c'è una serie di elementi di garanzie a partire dalla terzietà dal terzo imparziale dal contraddittorio ecco c'è la possibilità delle parti ciascuna di raccontare la sua verità e quindi il giudice ha la possibilità poi di conoscere la verità processuale di decidere secondo giustizia ecco ma per chiarire ulteriormente se ci fosse bisogno questo punto fermo di Papa Francesco cioè la conferma della ricerca della tutela della verità del vincolo matrimoniale attraverso gli strumenti del processo giudiziale che ritengo di fondamentale importanza per una retta applicazione della riforma vorrei leggere con voi una risposta propria di Papa Francesco in occasione della conferenza stampa del 27 settembre 2015 nel viaggio aereo di ritorno dagli USA infatti la pubblicazione delle due lettere apostoliche di riforma avvenuta l'8 settembre quindi qualche giorno prima suscitò sia entusiasmo sia preoccupazione attirando dunque ovviamente l'attenzione dei mass media in tale risposta Papa Francesco nega esplicitamente che ad aver motivato la riforma sia stata la volontà di introdurre una sorta di divorzio attentando la solidità del vincolo matrimonale della Chiesa ma conferma l'intento di ricercare e tutelare la verità e cito adesso la risposta del Santo Padre c'è un giornalista che chiede Santo Padre vogliamo sapere cosa risponde a quelli che temono con questa riforma la creazione di fatto di un cosiddetto divorzio cattolico grazie risponde il Papa nella riforma dei processi della modalità ho chiuso la porta alla via amministrativa che era la via attraverso la quale poteva entrare il divorzio ecco in una parola la via giudiziale cerca la verità la via amministrativa cerca l'opportunità ciò che è opportuno ciò che è più utile e si può dire che quelli che pensano al divorzio cattolico sbagliano perché quest'ultimo documento si riferisce a due noti proprio ha chiuso la porta al divorzio che poteva entrare sarebbe stato più facile per la via amministrativa sempre ci sarà la via giudiziale questo documento questo motu proprio facilita i processi nei tempi ma non è un divorzio perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento e questo la Chiesa no, non lo può cambiare è dottrina è un sacramento indissolubile il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento per mancanza di libertà per esempio per mancanza di maturità o per malattia mentale tanti sono i motivi che portano dopo uno studio un'indagine a dire no, lì non c'è stato sacramento per esempio perché quella persona non era libera un esempio adesso non è tanto comune ma in certi settori della società è comune almeno a Buenos Aires lo era i matrimoni quando la fidanzata rimaneva incinta dovete sposarvi io a Buenos Aires ai sacerdoti consigliavo ma con forza quasi proibivo di fare il matrimonio in queste condizioni noi li chiamiamo matrimoni di fretta per salvare tutte le apparenze e il bambino nasce alcuni matrimoni vanno bene ma non c'è libertà e poi vanno male si separano io sono stato costretto a fare il matrimonio perché dovevo coprire questa situazione dice qualcuno questa è una causa di nullità sono tante le cause di nullità voi potete cercarle nell'internet lì ci sono tutte è vero c'è il sito se vi connettete sulla chiesacattolica.it c'è il sito dei tribunali in cui si spiegano anche tutte le motivazioni e conclude così il Papa mi piace che lei mi abbia fatto la domanda sul divorzio cattolico no quello non esiste o non è stato matrimonio e questa è nullità non è esistito o se è esistito è indissolubile questo è chiaro grazie ecco mi sembra che il Papa ci tratteggi con molta chiarezza i suoi intenti quello che ha voluto fare proprio con la riforma quindi quando un tribunale ecclesiastico emette una sentenza di nullità di matrimonio dichiara la verità emersa dal processo cioè che dalla celebrazione del matrimonio non è mai sorto un vincolo valido per tale motivo non esiste un annullamento di matrimonio sebbene questo termine sia diffuso nei mass media e nel parale comune essendo piuttosto presente una dichiarazione dell'unità cioè un riconoscimento che quel matrimonio era nullo cioè non c'è mai stato al di là delle apparenze sgombrato allora il campo da pericolosi equivoci ripetiamo la nostra domanda iniziale quali sono le motivazioni della riforma evocata dei padri signorali attuata da Papa Francesco essi sono racchiuse nella salus animarum lo scrive Papa Francesco ancora nel proemio del mitis iudex ecco è quindi la preoccupazione della salvezza delle anime che oggi come ieri rimane il fine supremo delle istituzioni delle leggi del diritto a spingere il vescovo di Roma a offrire ai vescovi questo documento di riforma in quanto essi condividono con lui il compito della Chiesa di tutelare cioè l'unità nella fede e nella disciplina riguardo al matrimonio cardine origine della famiglia cristiana alimenta la spinta riformatrice e l'enorme numero di fedeli che pur desiderando provvedere alla propria coscienza troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati in questo senso sono andati anche i voti della maggioranza dei miei fratelli nell'episcopato e reuniti in recente sindaco straordinario che ha sollecitato processi più rapidi e accessibili in totale sintonia con tali desideri ho deciso di dare con questo moto proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni ma l'accelerità dei processi non meno che una giusta semplicità affinché a motivo della ritardata definizione del giudizio il cuore dei fedeli che attende il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio e il 7 dicembre 2015 il santo padre emette un rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale e ribadisce proprio questo concetto il sino dei vescovi recentemente concluso ha espresso una forte esortazione alla chiesa affinché si chini verso i suoi figli più fragili segnati dall'amore ferito e smarrito è il numero 55 della relazione finalis ai quali occorre ridonare fiducia e speranza le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la prossimità della chiesa alle famiglie ferite desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall'opera risanatrice di Cristo attraverso le strutture ecclesiastiche nell'auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli a beneficio dell'istituto familiare ecco possiamo ora rispondere alla nostra domanda iniziale circa le motivazioni della riforma è stata quindi la preoccupazione della salvezza delle anime fine supremo della chiesa e anche delle sue istituzioni giudiziarie a spingere il santo padre al cambiamento egli ha avvertito che troppo spesso c'è una distanza fisica o morale tra le strutture giuridiche della chiesa e un enorme numero di fedeli pertanto la chiesa come una madre deve farsi vicino ai suoi figli più fragili che soffrono per un fallimento matrimoniale deve mostrare l'amore misericordioso di Dio da qui i titoli delle due lettere apostoliche di riforma mitis iudex domius iesus il signore gesù mite giudice e mitis e misericordia iesus gesù mite e misericordioso ma attenzione pur mantenendo ferma la ricerca la difesa della verità sul vincolo indissolubile per cui la dichiarazione di unità resta radicalmente diversa dal divorzio ma attenzione non solo non favorendo nemmeno l'anunità dei matrimoni ma solo l'accelerità dei processi non meno che una giusta semplicità per evitare i gravi disagi ai fedeli dovuti all'eccessiva lunghezza dei giudizi è chiaro infatti che una giustizia in ritardo finisce per non essere più tale quindi ecco scusate sono stato un pochino lungo ma è per dirvi come il papa agito con grande equilibrio cercando proprio di coniugare la misericordia con la giustizia la misericordia con la verità l'accoglienza dell'altro della fragilità con la difesa del principio dell'indissolubilità ecco questo è difficile poi ovviamente è un impegno per tutti noi però è la via giusta tracciata dal santo padre ecco ora passo al quarto punto che ci introduce finalmente direttamente nell'applicazione della riforma proprio questa introduzione le caratteristiche di questa riforma e come sono state applicate ecco ovviamente in modo iniziale con tanti dubbi incertezze proprio perché in ogni riforma ogni novità porta con sé anche un periodo di rodaggio indispensabile se tali conclusioni sono a avere ora ci sono alcune altre due domande quali sono le misure indicate dalla riforma pontificia per favorire da una parte la prossimità della chiesa alle famiglie ferite la celerità e la giusta semplicità dei processi ma senza fare sconti sulla verità e poi secondo come si è posto il tribunale ecclesiastico già nel picerno di fronte al nuovo spirito della riforma pontificia e alle nuove piste da essa aperte ecco il primo strumento la prima indicazione che mi sembra emergere dalla riforma pontificia e che riguarda il nostro tribunale anche è l'inserimento dell'indagine pregiudiziale o pastorale nell'ambito della pastorale matrimoniale unitaria e la parte finale del motu proprio che è composto da 20 articoli rinnovati il santo padre scrive adesso vi porto alla fine del mitis al presente documento vengono unite le regole procedurali che ho ritenuto necessarie per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli la terza assemblea generale straordinaria del signo dei vescovi celebrata nel mese d'ottobre 2014 ha constatato la difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della chiesa ecco la lontananza fisica poiché il vescovo come il buon pastore è tenuto ad andare incontro ai suoi fedeli che hanno bisogno di particolare cura pastorale unitamente con le norme dettagliate per l'applicazione del processo matrimoniale è sembrato opportuno data per certo la collaborazione dei successori di Pietro dei vescovi nel diffondere la conoscenza della legge offrire alcuni strumenti affinché l'operato dei tribunali possa rispondere alle esigenze dei fedeli che richiedono l'accertamento della verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito per ovviare a queste difficoltà dei fedeli di raggiungere i tribunali della chiesa il santo padre propone l'inserimento dell'indagine pregiudiziale o pastorale nell'ambito della pastorale matrimoniale unitaria attraverso cinque articoli traccia un ponte tra le istituzioni e i fedeli che sono in difficoltà il vescovo in forza del canone 383 è tenuto a seguire con animo apostolico i conugi separati o divorziati che per le loro condizioni di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa egli quindi condivide con i parroci la sollecitudine pastorale verso questi fedeli in difficoltà l'indagine pregiudiziale o pastorale che accoglie nelle strutture parrocchiali o i cesani fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nuità del medesimo è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale ordinario o più breve tal'indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale di Gesana unitaria la stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'ordinario del luogo dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico canonica tra di essi vi sono in primo luogo il parroco proprio quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze questo compito di consulenza può essere affidato anche da altri chierici consacrati o laici approvati dall'ordinario del luogo le diocesi o più diocesi insieme secondo gli attuali raggruppamenti possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigire se del caso un vademecum che riporta gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine l'indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente si indaghi se le parti sono d'accordo nel chiede l'annualità raccolti tutti gli elementi l'indagine si chiude con il libello per presentarsi del caso al competente tribunale quindi è chiaro che per manifestare la prossimità della chiesa le famiglie ferite la pastorale matrimoniale diocesana o di più diocesi insieme è chiamata a offrire ai fedeli un primo luogo in cui essere accolti ascoltati anche aiutati in una sorta di indagine preliminare ad individuare elementi utili per l'introduzione di un'eventuale causa di novità matrimoniale il tribunale piceno garantisce da parte sua attraverso due patroni stabili l'accoglienza di coloro che avendo sperimentato il dramma del fallimento del loro matrimonio intendono verificare la possibile nullità del vincolo nuziale ecco una indagine previa e gratuita circa la propria situazione matrimoniale mirata a raccogliere elementi utili per eventualmente introdurre con la presentazione del libello presso il tribunale una causa di nullità matrimoniale ecco e ora vi do il primo dato ecco delle consulenze effettuate dai nostri due patroni stabili che sono due avvocati che sono collaboratori del tribunale ecco non so se riuscite a leggere ecco l'arco di tempo sono i 15 mesi li abbiamo divisi nei tre anni diciamo in tre frazioni ecco il totale delle consulenze sono di 226 colloqui tenendo conto però che qui sono solo i primi colloqui e quasi mai ecco si finisce con un colloquio solo quindi sono molti di più quelli ecco sono vedete divisi anche per alcune città perché perché tale servizio di consulenza è garantito a tutti i fedeli delle tre cidiocesi della regione Marche che lo richiedano ovviamente perché dico questo mi soffermo perché proprio recentemente il santo padre ha risolto un problema un dubbio applicativo che aveva creato problemi proprio con gli avvocati rotali il fedele rimane però sempre libero di rivolgersi ad un avvocato di fiducia scelto tra gli avvocati rotali o tra i patroni iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori ammessi a operare presso il terpiceno ciò è stato ripetito recentemente in una lettera del segretario di stato vaticano relativa a una questione degli avvocati rotali che patrocinano presso il tribunale apostolico della rota romana nella quale si comunica al decano del suddetto apostolico tribunale che il santo padre ha espresso la volontà che sia rispettato il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio avvocato e ha chiesto a quest'ultimo di voler modificare la prassi attuale in modo da consentire alle parti che lo desiderano di scegliersi un patrono di fiducia cosa era accaduto che nel riscritto di cui parlavo prima del 7 dicembre il santo padre aveva scritto tra l'altro riguardo alla rota che il patrocinio davanti alla rota sia gratuito ma lui intendeva che chi desidera un patrocinio gratuito può ottenere ma non che non possa avere un proprio avvocato di fiducia e c'era stato questo equivoco e il santo padre appunto con lettera proprio del febbraio scorso ha ribadito ecco questo diritto per cui anche noi come tribunale abbiamo i padroni stabili ovviamente per questo ho scritto che sono disponibili per tutti i fedeli delle marche che lo richiedono ovviamente e questo servizio è innanzitutto fornito e offerto nella serie dei padroni stabili che è qui a Fermo a poche decine di metri da quello del tribunale Piceno e se vedete appunto sommando FM sta per Fermo sono stati effettuati 128 colloqui su 226 in questa sede ma i patroni l'arcivesco come tribunale di Fermo moderatore del ter Piceno Monsignor Conti si avvale per l'accoglienza dei fedeli che vivono difficoltà matrimoniali della sua diocesi del consultorio di Gesano Famiglia Nuova e specificatamente per l'indagine pregiudiziale proprio del servizio dei patroni stabili del tribunale Piceno il servizio di consulenza però si svolge anche negli arcidiocesi metropolitani di Ancona Osimo e di Pesero tramite l'invio periodico per volontà dei rispettivi vescovi di un patrono stabile per una maggiore prossimità con le famiglie ferite del centro nord della regione pesiastica Marche ecco allora che voi potete vedere appunto delle sigle a Enne Ancona perché appunto il cardinale Menichelli proprio ha chiesto questo servizio per cui in questi 15 mesi vedete ci sono stati 31 colloqui nella sede di Ancona 40 a Pesero a San Benedetto 27 perché ad un certo punto dell'anno scorso l'indesco di San Benedetto ha istituito una propria struttura stabile di consulenza per cui ecco adesso diciamo si è staccato dal nostro servizio non lo richiede più e lo fa autonomamente ci risulta inoltre che oltre a diocesi di San Benedetto del Tronto di Patanzone Montalto anche a diocesi di Macerata Tolentino Recraticino Curitreia e di Ascoli Piceno abbiano costituito una propria struttura stabile per l'indagine pregiudiziale il terpiceno resta comunque sempre disponibile o richiesto a collaborare in queste strutture stabili che sono sorte o che sorgessero a livello di cesano o intercesano mettendo a disposizione i propri patroni stabili per consulenze matrimoniali svolte con dedizione spirito ecclesiale e professionalità ecco sembra opportuno che questo servizio non venga svolto da altri figuri del Tribunale Piceno o anche da altri tribunali che potessero sorgere quali giudici difensori vincolo proprio perché ci sarebbe poi incompatibilità ecco fare una consulenza giuridica specifica tecnica e poi giudicare o difendere il vincolo di quella causa per cui ecco sarebbe opportuno che soltanto chi fa l'avvocato diciamo e quindi ha come funzione quella di promuovere di cercare eventualmente l'annunità del matrimonio di svolgere tecnicamente questa funzione ecco passo adesso a un altro elemento fondamentale della riforma una sola sentenza in favore dell'annunità esecutiva per favorire la celerità e la semplicità dei processi venendo incontro ai fedeli che attendono il chiarimento del proprio Stato il Santo Padre abolisce la necessità della doppia sentenza conforme che dichiara l'annunità del matrimonio ecco scrive infatti Papa Francesco nel premio Almidi è parso opportuno anzitutto che non sia più richiesta una doppia decisione conforme in favore dell'annunità del matrimonio affinché le parti siano ammesse a nove nozze canoniche ma che sia sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto pertanto il nuovo canone 1679 è così recita la sentenza che per la prima volta ha dichiarato l'annunità del matrimonio decorsi termini stabiliti dai canoni 1630 a 1633 diventa esecutiva ciò significa che le sentenze affermative dell'annunità emesse in primo grado di giudizio divengono esecutive una volta decorsi i termini stabiliti senza che siano state impugnate né dalle parti né dalla difensore del vincolo per volontà per la volontà del santo padre questa disposizione si applicerà alle sentenze dichiarative dell'annunità pubblicate a partire dal giorno in cui questo modo proprio entrerà in vigore cioè l'8 dicembre 2015 ecco sempre in questa conferenza stampa di ritorno dagli USA il papa parla anche di questa sua scelta di abolire la doppia conforme dopo ben 300 anni della sua introduzione fu papa ben detto quattordicesimo proprio nel 1700 introdurla e lui spiega così in questa conferenza stampa questo è stato chiesto dalla maggioranza dei padri sinodali al sinodo dell'anno scorso snellire i processi perché c'erano processi che duravano 10-15 anni una prima sentenza una seconda e magari anche di più una sentenza e un'altra sentenza e dopo se c'è appello l'appello e poi c'è l'altro appello e non finisce mai la doppia sentenza quando era valida la prima e non c'era appello è stata introdotta da papa Lambertini ben detto quattordicesimo perché in centro Europa non dico il paese c'erano alcuni abusi e per fermarli lui ha introdotto questo ma non è una cosa essenziale al processo i processi cambiano la giurisprudenza cambia in meglio si migliora sempre in quel momento era urgente fare quello poi Pio Deccimo ha voluto snellire ha fatto qualcosa ma non ha avuto tempo e possibilità di farlo i padri sinodali hanno chiesto questo lo snellimento dei processi di unità matrimoniale e mi fermo su questo questo documento questo motu proprio facita i processi nei tempi ma non è un divorzio perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento e questo la Chiesa no come abbiamo detto non lo può cambiare ora gli effetti sul tribunale Piceno l'applicazione di tale innovativa disposizione ha determinato nel ter Piceno una serie di conseguenze che adesso possiamo vedere ecco nella tabella ecco se non diamo le cause appellate vedete ecco i primi numeri sono l'anno di presentazione quindi qui voi potete vedere le cause presentate ecco in quale anno e con quale valore numerico le cause decise a quanto risalgono diciamo 2012, 2013, 2014 eccetera se andiamo alle cause appellate vedete sono solo 24 nell'ambito di 15 mesi su 153 cause emesse vedete la prima presentata ecco e su 138 cause decise e 149 sentenziate pari a poco più del 15% oltre metà delle quali ad opera del difensore del vincolo invece una volta andavano tutte automaticamente in appello al nostro tribunale di appello o alla rota se uno faceva quindi qui è evidente diciamo il cambiamento adesso se volessimo se volessimo fare invece una comparazione per ancora per capire meglio a livello a livello annuale per dire cosa significa questo 24 per capire questo 24 adesso possiamo ecco se voi vedete le appellate ecco l'anno è dal 98 ad oggi se voi vedete ecco arriviamo al 2016 e sono solo 21 perché 24 sono di 15 mesi ovviamente ma se voi vedete prima 87 98 98 96 120 ecco quindi c'è proprio un effetto grande ecco ecco oltre a questo come effetto che è anche conseguente l'emissione di ben 117 decreti esecutori ecco qui sono le cause esecutive ecco in primo grado di giudizio cioè di quei decreti che sanciscono che la sentenza è messa in primo grado di giudizio è divenuta esecutiva senza più attendere ecco un grado successivo diciamo di appello quindi ben 117 cause sono finite diciamo in primo grado ancora un altro effetto sono le richieste del decreto di esecutività al superdemo tribunale a segnatura apostolica ecco che prima erano ovviamente di competenza del tribunale di appello queste che cosa sono praticamente quando c'è una dichiarazione di unità matrimoniale è possibile chiedere il riconoscimento degli effetti civili presso la competente corte di appello se la corte di appello avvisa che sono rispettate tutte le norme dello Stato italiano ordine pubblico eccetera può riconoscerlo per cui la nullità è valida anche per lo Stato italiano per fare questo però la corte di appello richiede un controllo sulla sentenza del tribunale locale ad opera del supremo tribunale segnato un'apostolica per cui occorre inviare la sentenza la richiesta e la segnatura se ravvisa che è tutto ok emette il decreto di esecutività ecco noi abbiamo avuto in questi 15 mesi le prime 11 richieste sono state 9 con esito affermativo una intrattazione una negativa perché nell'inviare non ci siamo accorti che non era un matrimonio concordatario per cui era canonico e poi civile per cui non è possibile il riconoscimento di un matrimonio solo canonico questo fa parte del rodaggio diciamo ecco ecco un altro elemento di novità il processo più breve che forse è l'elemento più interessante che forse più incuriosisce è un'invenzione proprio di Papa Francesco il quale a fianco al processo ordinario che è quello comune è il processo documentale che avviene che avviene velocemente attraverso l'esibizione dei documenti per esempio in caso di bigamia ecco basta esibire i matrimoni in cui non c'è stata un'ordinità dispensa eccetera ecco accanto a questo il Santo Padre ha ha costituito un nuovo processo il cosiddetto processo brevior esso è del tutto nuovo ed è svolto in parte dal tribunale sia esso diocesano o intercesano e in parte dal vescovo in modo particolare il quale esercita personalmente la sua potestà giudiziaria come giudice monocratico tra i fedeli e lo affidati ed emana la sentenza quindi al vescovo il Papa affida la decisione e la sentenza scrive il Santo Padre proprio nel premio al Mitis che adesso possiamo riprendere questa è una delle novità più grandi ecco lo stesso vescovo è giudice affinché sia finalmente tradotto in pratica l'insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza si è stabilito di rendere evidente che il vescovo stesso nella sua chiesa di cui è costituito postore e capo è perciò stesso giudice tra i fedeli e gli affidati si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lascia completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale ciò valga specialmente nel processo più breve che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidenti infatti oltre a rendere più agile il processo matrimoniale si è disegnata una forma di processo più breve in aggiunta a quello documentale come attualmente vigente da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'inissolubilità del matrimonio appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso vescovo che in forza del suo ufficio pastorale è compieto il maggiore garante dell'unità cattolica della fede e della disciplina ora si tenga conto che il processo Brevior ha delle condizioni ovviamente essendo così particolari non può essere usato se la parte convenuta a uno dei conugi resta in silenzio non controfirma il libello o non dà il suo consenso a livello ecco una delle due caratteristiche l'elemento oggettivo è proprio il consenso delle parti al processo Brevio può essere introdotto solo ed esclusivamente con il consenso delle parti che deve essere espresso pubblicamente ed inequivocabilmente non può essere sottinteso presunto si può passare dall'ordinario al Brevio solo ed esclusivamente con il consenso delle parti ecco da noi è accaduto proprio questo anche come caso è un processo ordinario partito come ordinario nel momento in cui è stato poi comunicato alla parte convenuta la parte convenuta ha chiesto il Brevior su uno solo dei capi erano più di uno capi in unità e motivi in unità della parte attrice e c'è stato quindi un confronto e un accordo tra le parti per cui hanno avuto dato il consenso per un capo per cui questo processo poi da ordinare è passato a più breve oltre a questo però c'è un'altra condizione devono ricorrere circostanze di fatti e di persone sostenute da testimonianze o documenti che non richiedono un'inchiesta o un'istruzione più accurata e rendono manifesta la nullità ecco questo è un punto importante che adesso è il canone 1684 che vi illustro ecco nel senso 83 vedete la domanda sia proposta da entrambi i conogi o da uno di essi con il consenso dell'altro il presupposto oggettivo ricorrono circostanze di fatti e di persone sostenute da testimonianze o documenti che non richiedono un'inchiesta o un'istruzione più accurata e rendono manifesta la nullità questo significa che mentre nel processo ordinario affinché se si maturi la certezza morale eventualmente sulla nullità occorre un procedimento che dura mesi magari anche un anno o più attraverso fare testimonianze udienze perizie eccetera qui ci devono essere all'inizio circostanze o fatti tali che rendano il giudice che facciano solo gileggia giù il giudice ecco questa consapevolezza comunità è evidente quindi è un alto grado non è un processo non sono casi che avvengono spesso noi per esempio ne abbiamo avuti registrati uno su dieci ecco come come percentuale e più o meno è quello che in genere avviene anche un po' nel mondo queste condizioni però è possibile decisione della causa spetta al vescovo diocesano ecco questa è la novità lo stesso vescovo esano compete giudicare vedete le cause di novità questa è la novità ecco il vescovo sempre è stato giudice anche nel precedente codice diritto canonico ma si diceva nell'istruzione che poi è stata sviluppata in genere non non eserciti però in prima persona la funzione giudiziaria lo faccio attraverso il giudiziale giudice invece adesso il papa dice che almeno una parte di giudizio almeno quelli più brevi o semplici è bene che il vescovo in questi giudizi eserciti in prima persona il suo mons di giudice ecco come avviene allora concretamente ecco un processo più breve ecco innanzitutto occorre l'ammissione del libello andiamo al canone 1676 ricevuto il libello il vicaro giudiziale se ritiene che esso goda di qualche fondamento lo ammetta quindi c'è un'ammissione del libello che basta che ci sia un qualche fondamento che ci sia la speranza almeno che possa essere nullo che non sia proprio assolutamente impossibile che non sia ecco che non possa diventare che possa essere dichiato nullo lo ammetta e con decreto posto in calcio allo stesso ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo che è un po' la figura che difende il vincolo e che garantisce il contraddittorio anche qualora i conici fossero d'accordo per la nullità ecco c'è questa fixo iuris per cui c'è una parte un po' come il pubblico ministero diciamo che difende diciamo il vincolo a nome dell'istituzione ecclesiale ecco se non è stato sottoscritto da entrambe le parti anche la parte convenuta dandone il termine dei 15 giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda perché dicevamo il livello può essere controfirmato a quel punto non si manda ma se l'altra parte non è a conoscenza deve essere chiamata in giudizio e posta a conoscenza dato il termine per rispondere eventualmente il paragrafo 2 ci dice eventualmente il vincolo di sale può scrivere ulteriormente se la parte non risponde sentito il difensore del vincolo il suo parere in merito il vicario di sale con proprio decreto determini la forma del dubbio cioè la domanda il matrimonio è nullo per questo motivo o per questi motivi e stabilisca se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo più breve ecco vedete quindi la scelta tra processo ordinario e il processo più breve non avviene all'inizio prima c'è la missione del livello ha una missione generica nel senso di dire questo matrimonio potrebbe essere nullo ma non si esprime il vicario giudiziale su questo possiamo dire non è nato ancora poi se intendo l'altra parte del dv con un secondo decreto il vicario giudiziale stabilisce allora qui ci possono essere più casi che venga presentato come dicevo prima un libello per un processo ordinario ma poi come in questo caso si passi a un breve perché si ottiene il consenso da un'altra parte e anche ci si accorda sul capo di unità e il vicario giudiziale ritiene che quella causa sia semplice sia evidente con l'unità oppure può capitare il contrario che viene presentato come più breve ma il vicario giudiziale constata che non c'è il consenso e per noi è capitato ecco almeno un paio di volte in cui non era controfirmato non c'era il consenso per cui non l'abbiamo comunque inviato all'altra parte e la parte ha negato il consenso in un caso molto simpatico il primo che mi è capitato l'altra parte ha detto no ci siamo perché ci stiamo riconciliando per cui probabilmente l'avvocato dipartatrice non sapeva ancora di questo riavvicinamento tra le parti per cui quando la citazione ha raggiunto la parte comunità già era rinato diciamo il rapporto tra loro per cui la causa poi è stata archiviata casi in cui non c'è il consenso delle parti altre volte invece per esempio il consenso il vicario giudiziale non reputa la nullità manifesta cioè non ha quella certezza morale di quella sicurezza quella serenità per poter consegnare poi ecco questa causa al vescovo come causa semplice a quel punto la manda all'ordinario e su questo ecco vi posso dare ecco l'ultimo punto che su cui vorrei trattare poi eventualmente nelle domande si può approfondire ecco il Santo Padre sempre nel premio chiede un'altra cosa auspica un'altra cosa la gratuità dei processi insieme con la prossimità del giudice curino per quanto possibile le conferenze episcopali salvo la giusta e degnitosa retribuzione degli operatori dei tribunali che venga assicurata la gratuità delle procedure perché la Chiesa mostrandosi ai fedeli madre generosa in una materia così strettamente legata alla salvezza e alle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati ecco i vescovi italiani ad esempio stanno elaborando una proposta proprio per applicare nell'ambito amministrativo economico dei tribunali cridastici italiani la riforma del processo di dignità matrimoniale il cardinale fa parte del consiglio di presidenza che si è riunito proprio nello scorso 20-22 marzo e dal comunicato stampa si dice che il consiglio permanente ha anche approvato un testo relativo all'aggiornamento delle norme circa regime amministrativo dei tribunali ecclesiatici italiani in materiale tribunale anche questo sarà approfondito e votato in assemblea cioè il prossimo maggio quindi ecco vedremo come i vescovi applicano anche a livello amministrativo questa esortazione del santo padre alla gratuità io intanto voglio dire questo qui che comunque già adesso la normativa che è in vigore dal 2001 da parte della CEI era comunque possiamo dire sostanzialmente di questa linea non era molto lontana nel senso che comunque anche adesso nessuno viene nessuno perde la possibilità di una causa per motivi economici ecco a chi può ha chiesto un contributo che è di 525 euro per la parte attrice 265 se la parte convenuta si costituisce con un avvocato oppure gratuitamente proprio niente ma chi non potesse nemmeno dare questa piccola cifra ecco il vigore giudiziale può rateizzare può ridurre può esentare per cui di fatto per chi non può effettivamente il tribunale non costa nulla questo come spese processuali come spese dell'avvocato ecco lo stesso perché certamente chi può e vuole come diciamo prima può scegliere su un avvocato di fiducia e sul sito proprio della CEI ci sono le tabelle con i massimi e i minimi i massimi degli onorari ma chi volesse invece ecco non pagare un avvocato può fare richiesta del padrone stabile di cui parlavo prima chi oltre a fare la consulenza gratuitamente può fare e può anche seguire la persona per tutto l'iter della causa e per esempio ecco per noi praticamente ecco riprendendo quello schema di prima vi faccio vedere un po' quante cause dei nostri patroni queste sono le consulenze ma adesso vediamo le cause sui 153 cause introdotte in questi 15 mesi ben 112 sono state presentate dai patroni pari a più del 73% quindi significa che più del 73% delle persone che sono rivolte a noi hanno ricevuto l'avvocato gratuitamente e diverse di queste magari hanno avuto anche la riduzione rateizzazione o esenzione ecco anche dalle spese processuali ecco ovviamente se il carico fosse eccessivo nel senso che i patroni poi fisicamente non possono seguire tutte queste cause e in caso di difficoltà economica il vicaro giudizio ha anche la possibilità di chiedere a un avvocato di fiducia quindi tra quelli che sono iscritti all'albo di il gratuito patrocino per cui l'avvocato non riceve un compenso se non il rimborso delle spese vive e altri piccoli accessori ecco per cui veramente credo che già fin d'ora ecco questa realtà della gratuità è già in opera ecco certamente il Papa come avete sentito che poi concludo il Papa pensa anche agli operatori tribunali i quali fanno un servizio alle famiglie ferite per cui giustamente il Papa dice che giustamente che sia quindi la gratuità fatta salvo la giusta e dignitosa a retribuzione degli operatori ecco che ovviamente anche loro hanno famiglia e vivono di questo per cui ecco l'augurio è proprio che qualunque anche situazione poi ecco si scelga anche nell'ambito marchigiano di riforma anche delle strutture giudiziarie ecco si tenga conto anche giustamente di coloro che lavorano anche da anni proprio per il bene delle famiglie ferite ecco quindi ringraziare tutti voi per l'attenzione ovviamente ci sarebbero altri aspetti ma il tempo non c'è più ecco per l'ascolto e a nome di tutto il Tribunale Piceno e di tutti gli operatori ecco garantisco diciamo che tutto il Tribunale è a disposizione per proseguire questa applicazione della riforma ovviamente sempre più puntuale e piena ecco questa riforma voluta dal Santo Padre Francesco grazie ecco ora abbiamo un po' di tempo e se anche sull'aminenza si vuol dire qualcosa su queste scontate domande ecco si può venire sia a formare la domanda qui al tavolo di presidenza oppure ci sa ecco c'è un microfono portatile che gira per cui basta alzare la mano per ricevere si possono formulare domande o osservazioni integrazioni sono stefania di agostino un avvocato di ascolti dove volevo fare una domanda al vicario giudizio e dunque Don Paolo parlava di periodo di ruotaggio questi 15 mesi sono stati 15 mesi da un punto di vista professionale davvero difficili da affrontare perché sappiamo bene quante situazioni nuove abbiamo dovuto approfondire risolvere anche insieme tante volte e io volevo un po' ricordare quello che è accaduto in questi 15 mesi perché comunque è stato fondamentale anche condividere nelle università a Roma abbiamo partecipato a seminari convegni e lì è accaduto una cosa bellissima secondo me che proprio dava ridare l'aspetto comunionale che è venuto fuori cioè ci siamo seduti con professori con vicari giudiziali dei tribunali regionali con difensori dei dincoli giudici avvocati per risolvere quelle questioni davvero difficili da trattare perché la riforma si è incarnata e nel momento dell'incarnazione è veramente stato complicato attuarla secondo me qui ritornando nella nostra regione ecclesiastica è mancato un po' questo aspetto forse presi da tante altre emergenze quindi un confronto con gli avvocati Don Paolo comunque non capire meglio proprio la Prassi al di là della riforma che abbiamo studiato tutti sulla carta ma poi i documenti le varie fasi per richiedere un processo greco sappiamo quanto lavoro dentro anche al primo che fu presentato e quindi ecco era un po' una richiesta di promuovere questo aspetto comunionale anche nella nostra regione ecclesiastica perché secondo me è mancato proprio questa visione orizzontale dove tutti mettono il proprio contributo per capire meglio per risolvere questioni per anche affrontare delle novità che non hanno parametri non ci sono precedenti non c'è nulla a cui potersi conformare o modelli cui ispirarsi quindi ecco era una richiesta di di aiuto grazie io ringrazio ecco la bocca di sede agostino è proprio vero infatti questo vuole essere proprio anche l'intenzione del moderatore un'occasione per un pochino affrontare insieme per la prima volta questa questa riforma vedere un pochino cosa si è capito confrontarci e certamente aprire una pista anche perché adesso forse qualche chiedezza viene ma come sa bene diciamo in questi 15 mesi sono state anche delle opinioni ancora ci sono molto varie anche a livello di massimi di castelli pontifici quindi effettivamente dare una linea poi diventa un po' era un po' difficile adesso forse anche anche perché il Santo Padre ha dovuto l'estate scorsa istituire un tavolo di confronto proprio tra i tre capi di Castero della Giustizia proprio per mettersi d'accordo su come applicare la riforma quindi vuol dire che c'è proprio anche una difficoltà reale di comprendere di applicare per cui questo si è riversato poi da noi però che si possa comare dopo questo incontro anche avviare incontri locali diciamo senza altro ci sono altre domande non c'è assemblea preoccupata no? ecco dirò solo due due parole la prima è di gratitudine per il lavoro che ha fatto e che fa il tribunale anche in questo periodo di passaggio di rodaggio e debbo anche così rappresentarvi la discussione che abbiamo fatto all'interno della conferenza episcopale nostra su se e su come applicare questa questa riforma debbo dirvi con franchezza che ancora si sta studiando perché vorremmo essere il più possibile vicini alle persone e il più possibile vicino alla realtà e il più possibile obbedienti all'indicazione del Papa la nostra non è una regione lunghissima come le Puglie per cui la cosiddetta vicinanza è già quasi oggettivamente presente e poi ci possono essere anche altre soluzioni rispetto a questo tema mi pare colto nella parola della dottoressa che al presente anche le nostre diocesi come dire sono toccate da altre problematiche che hanno rallentato anche il nostro approfondimento e questo non è una pigrizia ma è uno sguardo oggettivo sulla realtà credo che per ora noi continueremo così perché anche così si è tra virgolette obbedienti all'indicazione del Papa quello che conta secondo me è mettere insieme degli elementi condivisi che per un verso sono razionali per l'altro verso sono eminentemente pastorali allora a riguardo io mi sento di offrire queste personali riflessioni intanto il tema delle dichiarazioni dell'età da che almeno io ne ho conoscenza diretta è sempre un tema caldo da sempre molto caldo se ne sono sentiti tutti i colori solo i ricchi hanno questo solo quelli che sono protetti ne ho sentite tante anche perché ho fatto per 20 anni abbondanti questo come posso dire questo servizio ai tribunali ecclesiassi d'Italia quando ero nella segnatura apostolica il mio compito ogni ufficiale aveva un compito io avevo quello di leggere tutte le cause di unità che venivano dai tribunali regionali fare le valutazioni anche le valutazioni di conformità del diritto canonico con le leggi statuali e ho visto in questi anni questo ripetersi di difficoltà perché immaginate che all'interno di un processo di dichiarazione di nullità si incrociano persone sentimenti controversie verità testimonianze costi allora questo è sempre un tema caldo e lo è tuttora anche se la chiesa mi pare che si abbia come dire esercitato questo questo sforzo di maternità anche l'avere scelto la strada di un unico grado di valutazione mi pare che questo sia un elemento di celerità non indifferente vorrei che comprendeste anche come posso dire la fatica che per me sta in un elemento fondamentale che deve toccare tutti e cioè che quello del tribunale ecclesiastico non è un'azione prevalentemente esclusivamente giudiziale è pastorale è pastorale certo deve essere l'applicazione del diritto fatto per bene tutte le cose che vogliono ma dentro c'è l'azione pastorale credo che questo sia un elemento di valutazione non indifferente che deve costringere tutti gli operatori interni ed esterni come posso dire a collocarsi in una dimensione per cui andiamo alla ricerca di una verità che ci sovrasta non di qualcosa che ci piace questo è fondamentale soprattutto in un contesto attuale in cui per valutare una dichiarazione di nullità ci sono elementi plurali rispetto a ieri posso posso farvi questa analisi se non vi dispiace se vi rubo qualche minuto nel leggere annualmente più di 1200 cause dal nord al sud d'Italia io mi sono fatto una ragione del cambiamento della mutazione culturale nei primi anni degli anni 70 80 come posso dire l'Italia era divisa in tre zone fondamentalmente le cause del nord erano già dentro le valutazioni del sacramento escludo la fedeltà escludo i figli escludo l'indirissolubilità e via di seguito il centro è stato sempre molto equilibrato un po' di queste cose e un po' anche di quello che succedeva al sud prevalentemente le cause erano quasi tutte lo dico in latino ma è maccheronico obbim vis et emetus perché come diceva il papa prima la ragazza ha fatto la fuga è incinta bisogna che si sposi automaticamente dopo l'introduzione del divorzio da questo punto di vista si è quasi come dire raffinata gli elementi la ricerca degli elementi della creazione di unità al nord per cui era proprio l'esclusione del matrimonio in quanto tale e quelle del sud sono sparite quasi sempre vis et emetus e ci siamo adeguati all'esclusione della fedeltà eccetera in questo periodo tu non l'hai detto ma sarebbe bene che la gente lo sapesse che il 90% delle cause è perché lo dico in italiano in questo caso la gente si sposa senza sapere quello che fa l'incapacità di valutazione allora qui il problema diventa pastorale doppio perché implica un impegno della comunità e il sinodi non sono stati fatti chiudiamo un occhio sulle cose negative questo dalla stampa deve sparire dalla nostra mentalità deve sparire il sinodo è stato fatto per dire questa è la realtà come possiamo avvicinarci ma soprattutto come possiamo fare per evitare che questa mentalità cresca perché di fatto sta fortemente crescendo allora visto che faccio anche il vescovo credo che sia importante che lui vescovo diciamo che qui oggi impegniamo tutti a salvare il matrimonio oppure credo che saremmo chiamati ogni anno a raccontarci le cose negative al sinodo noi abbiamo trovato individuato quattro deficit rispetto al matrimonio o rispetto alla celebrazione del matrimonio il primo deficit è questo quello che ho detto poco fa mi sposo e non so quello che faccio diceva come quelli sono 14 anni di fidanzamento sì sono 14 anni di fidanzamento e non sa perché si sposa secondo molti non conoscono il progetto del matrimonio cosa c'è dentro del matrimonio che cosa consiste il matrimonio per di più in questo tempo in cui con la parola matrimonio chiamiamo situazioni totalmente diverse e mi piura la responsabilità di quello che dico io sono stanco culturalmente che venga abbinato alla parola matrimonio a uomo e donna e matrimonio ad altre persone e mi meraviglio anche che la società culturale non dica nulla su i matrimoni unioni civili come se un matrimonio tra virgolette uomo e donna fosse una unione incivile bisogna che la cultura diventi educativa che la parola diventi educativa e questo è stabilisce perché non si conosce il progetto è tutto uguale terzo deficit udite udite in un mondo come il nostro il deficit della formazione affettiva e dell'esercizio della sessualità prendetevi la briga di parlare con i vostri nipoti con i vostri figli adolescenti o giovanottini fate la domanda che cos'è la sessualità siamo chiamati a rabbrividirci e da ultimo la cenava prima con fratello Luigi al signore abbiamo parlato vi posso anche dire una cosa che ho detto personalmente al Papa e il Papa ha detto personalmente a me è la questione della fede la fede non è un amminicolo nel sacramento non è un amminicolo è un fatto sostanziale perché il matrimonio chiamiamolo pure naturale è uguale per il mondo e per la chiesa almeno fino a un certo punto di vista ma per noi diventa sacramento allora dialogando col Papa un giorno mi ha detto io leggevo una cosa lui stava così e poi il matrimonio è sacramento e io ho detto certo bellissimo padre che è sacramento ma se è valido e lui ha continuato e già se è valido e qui viene fuori il discorso della fede questo è fondamentale questi quattro deficit carissimi tutti operatori del tribunale non dobbiamo risolverli dopo dovremmo risolverli prima perché dopo si piange prima possiamo ancora salvare il tutto e allora qui c'è l'altra parola chiave che facciamo adesso si fa un po' in tutto io sono sei anni che ho un gruppo di divorziati risposati riseparati che si vedono una volta al mese sono una sessantina si accompagnano qualcuno di questi ha una situazione di possibile dichiarazione di minorità qualcun altro ha detto io proprio non ce l'ho questo perché mi sono sposato così 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 non mi sento di tra virgolette azzardare un percorso uso la parola impropria inventato allora l'accompagnamento questa dicevi tu la struttura giuridico-pastorale nelle diocese e soprattutto la preparazione io non so se anche nelle Marche e in Italia va facciamo se riuscirà mai a fare una preparazione a matrimonio seria per esaminare se noi eravamo seminaristi bravi destinati al sagerdozio ci abbiamo messo 14 anni nel migliore dei casi quando ci depredevano da lattanti io mi sono salvato un po' invece di 14 ne ho fatti i 12 ma insomma sempre parecchi adesso ne fanno 7 e per i fidanzati 10 incontri quando sono tanti quelli di ripescaggio quando il fidanzato sta a New York e la fidanzata sta a Roma e vengono a sposarsi nella bazia X e quando è che nella cultura della comunità cristiana entra che il matrimonio è un sacramento grande come il sagerdozio e questi sono problemi che interferiscono poi con l'attività che fa un tribunale e con l'attività che fanno i bravi avvocati e gli operatori del tribunale quindi direi che dobbiamo metterci in questa in questa prospettiva l'ultima cosa che non è a correzione di quello che ha detto lui assolutamente ma per integrare quello che ha detto il giudice nato è solo il vescovo ma non perché è più bravo o perché sa tutto ognuno di noi sa la sua ignoranza ma perché per il sacramento quello è l'apostolo quello ha il potere di sciogliere di legare tra virgolette però come diceva lui se facciamo anche questo è meglio che non ci alziamo più al mattino naturalmente non ce la facciamo più perché saremo i tuttologi o i tuttofare ecco allora la collaborazione ed è qui perché qualcuno l'ha preso questa cosa come uno scandalo come una appropriazione indebita ma questo secondo me è stata la novità fondamentale del sinodo il vescovo si prenda la responsabilità di pastore di quella realtà che deve conoscere esaminare incontrare tutto quello che volete posso dirvi di me sto incontrando molte coppie ma finora personalmente non ho trovato una per la quale sia necessario il processo breve perché le persone ti dicono ma cordialmente mi dicono Don Edoardo ma io sono 21 anni che non parlo più con mio marito o con mia moglie se vado a riprire questa piaga finiamo per litigare un'altra volta adesso si è quasi composta una cosa quindi lui o lei non mi metterà mai né la firma né il consenso allora si cammina sulla via ordinaria che ha le difficoltà che ha perché dopo 21 anni va un po' a ritrovare i testimoni come fai a ritrovarli e oggi c'è un'altra complicazione che immagino fra poco verrà fuori se non è venuta fuori i cosiddetti i matrimoni con fratelli e sorelle di altre confessioni religiose o cristiani per un verso o musulmani fioli si complica la vicenda pastorale del sacramento del matrimonio e del tribunale allora bisogna che noi da questo punto di vista non stiamo qui per confrontarci negativamente ma stiamo qui per aiutarci positivamente a dare risposte accompagnamento e salvezza alle nostre coppie come dire ferite e finisco con un'altra cosa cattiva al sinodo il Papa ce l'ha ripetuto di non usare più la famosa parola coppie irregolari e spero che non si usi mai più questa parola adesso io la uso per farmi capire ma solo quelle persone lì sono irregolari o noi tutti non siamo irregolari prendiamo il capitolo 15 di San Giovanni e non solo quando lui ci dice sarete miei discepoli se farete quello che io vi comando questo vi comando amatevi siamo tutti irregolari o siamo tutti irregolari grazie dell'ascolto a questo punto se non ci sono altre domande come penso e se siete sufficientemente stanchi come penso io dichiaro aperto un nuovo un nuovo anno giudiziario bensì sulla scorta delle parole al pelo va bene di Don Edoardo dichiaro aperto un anno di scendimento pastorale sapendo di far piacere anche al Papa così che lui glielo può raccontare la prossima volta buona giornata a tutti e grazie grazie a tutti grazie a tutti